Ciao Emanuele, diciamo che migliore esordio non potevi sognare probabilmente perché questo gol oltre ad essere molto bello ha permesso anche all'Empoli di raddrizzare una partita che sembrava ormai archiviata e negativa, quindi ti chiedo intanto quanto orgoglio c'è di aver fatto questo gol che ha permesso alla tua squadra di pareggiare e poi ti chiedo anche un po' una disamina di quello che è avvenuto diciamo così nella partita perché è sembrata una partita davvero con mille sfaccettature. Credo sia stata una partita comunque dove almeno il pareggio lo meritavamo anche perché avendo giocato anche in dici per la maggior parte della partita abbiamo comunque fatto il nostro gioco, abbiamo attaccato, abbiamo creato occasioni, poi il 2-2 è arrivato all'ultimo minuto ma credo che lo meritassimo già anche da prima, poi ovviamente fare gol all'esordio è una cosa bellissima, sono felice. Ciao ti chiedo intanto complimenti a chi dedichi il tuo primo gol in azzurro? Alla mia famiglia che comunque mi segue sempre, ai miei amici che sono venuti a vedermi oggi per la prima volta e la mia fidanzata anche lei da casa mi segue.